Grazie a Jill Cooper di essere qui a Open Your Smile, siamo felicissimi del suo speech e le facciamo una domanda se ci riassume in breve qual è la sua filosofia, quello che lei crede, qual è il mondo in cui vuoi vivere? Allora ragazzi, la vita è una figata ed è una scelta, di conseguenza si può essere o triste o felice, io scelgo di essere felice, scelgo di sorridere anche in momenti in che vorrei piangere, però ripeto, la felicità è una scelta, è possibile a cambiare anche oggi stessa per essere il massimo di te stesso e tutto questo è quello che è Open Your Smile, sorridi, sorridi perché la vita è veramente una figata. Baccio a tutti!